Bentornati con le consuete previsioni a cura di Meteo One. L'anticiclone sposterà il suo campo di influenza sempre più ad est, richiamando aria più calda dalle coste nordafricane e andando a garantire bel tempo su gran parte del territorio italiano. Avremo così temperature in aumento e clima quasi estivo. Attenzione perché da ovest sarà inaguato una nuova perturbazione di origine atlantica. Ma andiamo a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per giovedì 18 maggio. Al mattino cieli sereni su gran parte della Puglia, sulla Basilicata più nuvoloso ma senza fenomeni. Al pomeriggio ampie schiarite ovunque, tranne sul basso potentino, dove la copertura nuvolosa sarà più compatta e avremo possibilità di rovesci. Durante la sera cieli stellati su gran parte del territorio. Temperature che risulteranno in un leggero rialzo nei valori massimi e minimi. Soffieranno venti deboli per lo più di direzione nord-orientale sulla Puglia, calmi o variabili invece sulla Basilicata. E per quanto riguarda i mari, da calmi a poco mossi. Ed ora passiamo al nostro consueto appuntamento con la foto del giorno. Oggi ringraziamo Roberto Cordova, che immortala una suggestiva atmosfera dal porto di Bari. Si tratta di nebbia d'avvezione, generata dallo scorrimento di aree più calda su un mare ancora piuttosto freddo. Se volete inviare la vostra foto del giorno, contattateci al numero WhatsApp e alle mail che vedete in sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.